ciao a tutti ragazzi benvenuti in questo nuovo video in questo nuovo assaggiamo dalla germania mi sono portata giù oltre alle patatine che avete visto alla canapa anche non uno non due ma ben tre tubi di pringles un po' particolari che almeno io in italia non ho mai visto in particolare quello che assaggerò per ultimo poi non è detto che non esistano in italia io purtroppo non avendo modo di spostarmi più di tanto non posso andare in centri commerciali grossi a sbirciare ma almeno in quello che sono i supermercati quelli un pochino più piccoli che ho intorno a me non ne ho trovati quindi direi che andiamo con il primo che sono le pringles rice fusion al gusto chicken tikka masala quindi un gusto un po' indiano se vogliamo così vi faccio vedere da vicino la confezione appunto vedete appunto pringles rice fusion appunto vedete l'immagine con il taj mahal indiano e sul retro non riesco a farvi vedere per bene penso gli ingredienti ma vi faccio vedere la tabella dei valori nutrizionali in più vi dico che sono vegetariane pur avendo comunque il gusto chicken tikka masala sono vegetariane quindi vedremo direi di andare ad aprire ok ve ne prendo una intera e vi faccio vedere che effettivamente ha un po' di polverina di gialla sopra arancione assaggiamo effettivamente molto buona ricorda molto i gusti speziati del curry per esempio indiano direi che se le trovo in italia faccio scorta perché mi piacciono molto hanno anche quel retro gusto un po' piccantino che mi piace queste qui decisamente approvate secondo gusto secondo tubo di pringles sono queste al red curry malese dalla malesia quindi un gusto che dovrebbe comunque ricordare quelle del chicken tikka masala di prima per cui vi faccio per appunto vedere la confezione appunto vedete il nome come al solito e qui vediamo appunto il riso con delle spezie c'è una spezia che sembra il prezzemolo ma penso sia il coriandolo in realtà e vi faccio appunto vedere anche le informazioni nutrizionali se qualcuno volesse appunto dargli un'occhiata quindi andiamo ad aprire e ad assaggiare poi dunque ve ne prendo una intera perché la prima è sempre rotta ve la faccio vedere un pochino più da vicino ma non si vede granché la polverina si vede giusto leggermente il profumo è leggermente diverso anche di un pochino più forse aspro magari qualcosina di un pochino più aspro ma non saprei dirvi esattamente assaggiamo effettivamente il gusto è molto più delicato rispetto all'altro che era molto più speziato e molto anche un pochino più decisamente più piccante questa qui non lo so non riesco a capire esattamente ne assaggio un'altra è sì un gusto speziato però è decisamente uno speziato diverso rispetto a quello appunto indiano se dovessi scegliere quale delle due mangiare decisamente quelle chicken di kamasala però queste qui devo essere sincera nì se vi piace appunto la cucina malese probabilmente vi piaceranno anche queste ma devo essere sincera appunto non sono le mie preferite e arriviamo al terzo tubo di pringles di questo video che è anche l'ultimo e sorpresa sorpresa le pringles al gusto pizza queste non so se le faranno mai in Italia vi faccio per l'appunto vedere la confezione vedete che c'è una bella fettazza di pizza con il forno sullo sfondo anche qui vi faccio vedere appunto gli ingredienti no perché non si capirebbe le informazioni nutrizionali e bando alle ciance andiamo ad aprire e anche ad annusare e ad assaggiare ok ok il profumo sa molto di origano devo essere sincera o comunque di erba aromatica vi faccio vedere c'è un po' di polverina rossa in questo caso sulla patatina assaggiamo decisamente scariche come gusto non almeno ne assaggio un'altra perché magari la prima non era particolarmente saporita no decisamente scariche non sono particolarmente saporite hanno un leggero retrogusto di pomodoro coperto abbastanza dal profumo appunto di origano o comunque di erba aromatica di mix di erbe aromatiche per cui anche queste decisamente promosse sì nel senso che sono mangiabili non fanno schifo però da italiana qualcosa gusto pizza deve sapere deve avere un gusto bello deciso per quanto mi riguarda e decisamente queste e queste decisamente non ce l'hanno quindi anche qui è un nì se dovessi fare una classifica direi assolutamente al primo posto le prime che ho assaggiato quindi le chicken ticamasala secondo posto gusto pizza che ho preferito leggermente di più rispetto a quelle che si vanno al terzo posto ovvero il gusto chicken ticamasala con un commento qui sotto fatemi sapere se l'avete trovate in italia o all'estero questi gusti e anche dove ovviamente sempre qui sotto ma in descrizione vi ricordo che ci sono i link a tutti i miei social per seguirmi in diretta nelle mie avventure se il video vi è piaciuto vi invito a lasciare un like e ad iscrivervi al canale se non lo siete magari attivando anche la campanella in modo tale da ricevere una notifica ogni volta che carico un nuovo video noi ci vediamo al prossimo video have a nice life ciao 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 ciao